Degli advisor che possono provare a contribuire alla strutturazione di un nuovo gettito per la società con l'anno 21 perché comunque andiamo a posizionarci su un livello, come ha detto prima il nostro capitano, che non è sovente per la serie D e penso che non sia molto sovente neanche per la serie C, quantomeno per chi non ha l'obiettivo del baracadute dalla serie D quindi speriamo che possa piacervi, possa essere un nuovo inizio, giriamo la seconda pagina dello sviluppo vi ringrazio di nuovo per essere qua e vi saluto